Il centrodestra, Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia non sono in grado di governare. Oggi ci sono state due notizie importanti direi in Italia. Una è che la maggioranza è andata sotto in Parlamento, al Governo centrale, perché non hanno avuto anche lì numeri per procedere, quindi un'incompetenza politica andare avanti. Stessa cosa si è verificato in Abruzzo, dove il Consiglio regionale ha solo svolto le interpellanze nel momento in cui stavamo votando le proposte di legge, la maggioranza non ha avuto il numero legale e quindi il Consiglio si è dovuto interrompere, rinviare tutto al 2 maggio. Questa è l'inconsistenza politica di questa maggioranza, che già era partita male, perché comunque hanno tolto in commissione 5 milioni di euro che avevamo fatto stanziare per aiutare le famiglie a contrastare il caro bollette. Si preannunciava un consiglio di fuoco molto acceso. Noi eravamo pronti sulle barricate a presentare migliaia di emendamenti ostruzionistici per invitare la maggioranza a ripristinare questa somma e la maggioranza aveva dato già a Visaglia anche di voler presentare finanziamenti e emendamenti a pioggia, cioè è stato anche in commissione. Evidentemente siamo riusciti anche noi molto bravi nella nostra opera ostruzionistica per tutelare gli interessi degli abruzzesi. Adesso vedremo cosa succederà il 2 maggio, ma sicuramente noi non faremo sconti. Il 2 maggio entreremo in aula agguerriti come sempre, facendo un'opposizione costruttiva chiedendo due cose, ripristinare 5 milioni di euro per le famiglie, due, evitare di presentare finanziamenti a pioggia, denti, associazioni, fondazioni e quant'altro. Altrimenti ci sarà battaglia senza esclusione di colpi.